Salve a tutti amici di Campania nel pallone, eccoci ritrovati per il consueto appuntamento con il punto del giorno dopo. Napoli che ieri è stato sconfitto con il risultato di 3-1 per mano del Barcellona, venendo eliminato dalla Champions League e vedendo sfumare, almeno momentaneamente, ha anche la possibilità di accedere al ricchissimo mondiale per club in programma nel giugno del 2025. Adesso bisognerà vedere se il presidente De Laurentiis darà seguito al suo intento manifestato qualche settimana fa di intraprendere azioni legali sulla base della mancata partecipazione della Juventus all'ultima Champions League per motivi disciplinari, ma stando alla tempestività con cui il presidente della FIFA Gianni Infantino si è congratulato con il club bianconero per il raggiungimento della Coppa del Mondo per club, le premesse di certo non sono delle migliori. La sconfitta di ieri segna tristemente la fine di un'era, perché dopo la sconfitta in finale di Supercoppa italiana e dopo aver salutato matematicamente nello scorso weekend la possibilità di riconfermarsi campioni d'Italia, la Champions era ciò che di unico restava della meravigliosa cavalcata compiuta nell'annata 2022-2023 sotto la guida di Luciano Spalletti. Una sconfitta quella maturata in Spagna dopo la quale al netto degli errori strutturali e di programmazione che hanno reso la stagione della possibile consacrazione tra le grandi d'Europa in una stagione di involuzione drastica e al netto dei tanti troppi limiti di cui la squadra soffre in questo momento storico c'è da recriminare per due sviste arbitrali clamorose e oserei dire inammissibili in epoca VAR. Mi riferisco alla mancata espulsione di Christensen per l'entrata killer sulla caviglia di Lobotka parliamo di un episodio avvenuto nel corso del primo tempo e poi c'è stato un calcio di rigore solare negato al Napoli per un pestone all'interno dell'area di rigore che Kubarsi ha rifilato a Victor Rosimane un episodio dopo il quale non è neanche intervenuto il VAR e ciò è un qualcosa che davvero non ha alcuna spiegazione è un qualcosa di scandaloso e dunque per il secondo anno consecutivo il Napoli viene eliminato dalla Champions League dopo essere stato vittima di evidenti e gravissimi errori arbitrali però poi c'è da parlare di un Napoli che nei primi 20 minuti è stato totalmente in balia del Barcellona di un Napoli che ha totalmente sbagliato l'approccio alla gara che ha subito due gol inammissibili a certi livelli due gol che sono stati subiti concedendo un'eccessiva libertà che di certo non può essere concessa ad una squadra come il Barcellona e di merito appunto ai due gol subiti va considerata anche l'ipotesi che sia stato totalmente sbagliato il piano gara perché capisco la voglia di voler scendere in campo con personalità di voler dimostrare sfrontatezza ma in determinate situazioni è un rischio troppo grosso scendere in campo con un baricentro così alto esponendosi poi appunto a situazioni del genere da questo punto di vista non aveva tutti i torti Walter Mazzarri che contro un certo tipo di avversari aveva intrapreso la strada della difesa a tre è fuori discussione che nelle ultime settimane la produzione offensiva sia cresciuta notevolmente ma altrettanto fuori discussione è che la fase difensiva è un vero e proprio colabrodo in quei famosi primi 20 minuti è stato totalmente inesistente il filtro a centro campo si sono visti degli errori di posizionamento e di marcatura davvero marchiani ciò a dimostrazione del fatto che questo Napoli resta un cantiere aperto e non sappiamo se prima della fine della stagione questi problemi potranno essere risolti ovviamente non possiamo crocifiggere Calzona perché di tempo a disposizione ne ha avuto veramente poco ha fatto il possibile e poi sappiamo che comunque il gioco che lui ha in mente per poi essere funzionale in tutte le esigenze del caso richiede tanto ma tanto lavoro basti pensare a ciò che avvenne nel primo anno di Maurizio Sarri quando comunque nelle prime giornate dopo che c'era stata l'intera preparazione la squadra ancora non era pronta e tutti i meccanismi dovevano essere ancora assimilati al meglio dunque parliamo indubbiamente di difficoltà che erano ampiamente prevedibili poi però trascorsi quei primi 20 minuti dopo che il Napoli è riuscito a rientrare in partenza grazie al gol di Amir Rachmani abbiamo visto una squadra che ha totalmente cambiato volto rispetto all'inizio della gara una squadra che ha cominciato col farsi viva con continuità nei pressi dell'area di rigore catalana infatti soltanto 4 minuti dopo la rete siglata da Amir Rachmani c'è stata una ghiotta palla gol per Giovanni Di Lorenzo che si è visto rispingere da Ter Stegen un colpo di testa davvero molto insidioso e su cui appunto l'estremo difensore tedesco ha compiuto un'ottima parata è stato molto buono anche l'inizio di ripresa infatti c'è stato prima il tiro a giro di Quaraschelia uscito al lato di un soffio e poi l'episodio citato prima di Q Barsi e Victor Rosimane però poi a partire dal 64esimo il Napoli è nuovamente calato ed infatti la fase centrale del secondo tempo non è stata soddisfacente il calo è stato poi in contemporanea praticamente con le sostituzioni di Politano e Mario Rui che lasciano non poche perplessità considerato che appunto Politano e Mario Rui sino a quel momento risultavano essere i due migliori in campo mentre i due subentrati Olivera e Lindstrom certamente ieri non sono stati all'altezza tant'è che Lindstrom al minuto 80 se non erro si è divorato la palla del 2 a 2 lì Olivera gli aveva messo un bel cross forse l'unica cosa positiva vista da parte del terzino uruguaiano nella gara di ieri e Lindstrom totalmente indisturbato a pochi passi dalla porta ha spedito sul fondo e probabilmente proprio qui poi si sono infrante le speranze di portare la gara ai tempi supplementari ed è forse proprio uno scherzo del destino il fatto che sia stato un acquisto dell'ultima estate a divorarsi la palla del 2 a 2 tutti gli altri acquisti della sessione estiva e di quella di gennaio ieri sono rimasti in panchina oltre poi a Dendonker che non è neanche presente in lista che è entrato nel corso dei minuti di recupero e ciò è l'emblema comunque dei vari errori di programmazione che sono stati fatti nel corso di questa stagione e che ripeto hanno riso un'annata che poteva essere dando continuità a quanto costruito nella passata stagione un'annata che poteva vedere il Napoli consacrarsi definitivamente tra le big d'Europa in un'annata davvero da incubo dunque detto questo è al momento tutto Napoli che tornerà in campo domenica prossima a San Siro contro l'Inter una sfida sulla carta proibitiva se consideriamo i momenti che attraversano le due squadre che si andranno ad affrontare ma in teoria sarà una gara nella quale sarà necessario ottenere punti per tenere vivo uno spiraglio di poter accedere alla prossima Champions League dunque un saluto ed un ringraziamento a tutti gli ascoltatori di Campania nel Pallone appuntamento ai prossimi aggiornamenti qui su Campania nel Pallone e appuntamento ai prossimi aggiornamenti